Bene amici, dopo due mesi finalmente ritorno sul terrazzo in una giornata di scirocco e di un caldo tremendo e facciamo l'aggiornamento di tutto ciò che io avevo lasciato qui durante questi mesi di intemperie. Quindi abbiamo lì il cuscino con repaint, il tubolare sempre con repaint, i due rivestimenti Marine Cork e Permatech con i pezzi di legni con il crystal, il mio bel pezzo di tec che ormai è un po' andato e i pezzi tubolare che avevo lasciato qui per sporcare all'intemperie in modo tale che potessero funzionare da base per nuovi detergenti. Quindi adesso ci spostiamo, andiamo con ordine, iniziamo da quello che ormai da un anno è stato riverniciato, il cuscino di repaint. Ho messo il vaso per non farlo volare, quindi lo spostiamo. Oh mamma mia, c'è un bel casino perché vedete abbiamo un po' di radici che in questi due mesi la natura ha fatto il suo corso, come abbiamo ben visto anche sui social. In più si è rotto letteralmente in questi due punti a causa del peso del cuscino e ha anche questo strappo qui. A parte le radici comunque la zona del bianco lasciata all'esterno si è sporcata sicuramente ma vedete sembra già ripristinarsi perché appunto complice anche lo scirocco, poi comunque tutte le intemperie. Ricordo che è un anno che non è stato lavato, direi ottima prova di resistenza. Adesso proveremo a ripristinarlo e proveremo anche il cleaner dell'azienda per vedere come funziona e come lavora. Ci spostiamo sui rivestimenti, andiamo a vedere. Ecco qui, allora, il rivestimento Marine Cork è stato timbrato dalla parte di sotto della mattonella, ve la faccio vedere, eccola qui. E sembra comunque intatto, parte il segno qui, si è ingrigito ovviamente, la crepa già la conoscevamo, sotto, sporco ma niente di particolare, tende ancora a flettere leggermente, quindi ha conservato la sua elasticità, i commenti, la gomma letteralmente intatta, quindi nessun problema. Bene così, il rivestimento Permatec, quindi in PVC, questo qui, ecco, anche lui complice forse il caldo, è ritornato a essere flessibile, quindi come le condizioni originarie. Proviamo a fare il test di ripiegamento, ecco, e funziona. Vedete sotto, già ne abbiamo parlato perché non l'ho mai trattato dopo i lavori fatti qui sul terrazzo. In più abbiamo questi segni neri, non so se in camera si riescono a vedere, e anche questi tratti che ho paura siano un po' di muffa. In più il colore sembra aver perso un po' di brillantezza. Proveremo anche questo a lavarlo, fatemi sapere cosa ne pensate, e vedremo come si ripristina. Proveremo a vedere se queste sono veramente tracce di muffa, perché può capitare all'interno del PVC. Vi ricordo, io ce l'ho da tre anni alle intemperie, mai trattato, o meglio, trattato poche volte, ma non è incollato, quindi quando si lava, inevitabilmente, l'acqua ristagna anche sotto, e quindi può capitare che può penetrare all'interno. Vedremo quindi con dei test dei rimuovimuffa, per vedere se si rimuove, e poi magari proveremo a carteggiarlo. Fatemi sapere anche qui cosa ne pensate, e secondo voi come dovrei agire per ripristinare appieno la brillantezza. Pezzi di crystal. Vabbè, questo già lo sapevamo, che il legno ai lati non era stato trattato, quindi letteralmente marcio, spugnato. Però guardate questo blocchetto, in che condizioni è? Cioè, sembra nuovo? Certo, è impolverato, non lo mettiamo in dubbio, ma non ha problemi. Questi qui che non sono stati trattati lateralmente, ne avevamo già parlato in un video dedicato, e non ha dato nessun problema. La vernice qui si sta spaccando, ecco qui, penso si metta a fuoco, vedete? E quindi possiamo vedere, adesso lo facciamo, come si stacca. E non va via, è molto complicato, però ecco questa è la vera e propria pellicola del crystal, che si è bendato, come abbiamo visto già le altre volte, resiste ottimamente. Purtroppo sulla mia elica non ha avuto ottima resa, perché in quel caso, come già vi ho detto, vi consiglio di affidarvi ad un operatore specializzato, con verniciatura spruzzo, e poi in seguito cottura in forno. Tubolare, tubolare di repaint, ho messo sotto al vaso, nessun problema di colore, certo è sempre impolverato, ma nessun problema di resa, c'è qualche ricordino anche di qualche uccello, quindi quando si rimuoverà, vedremo se ha corroso la vernice o meno, perché ricordo che le deiezioni dei gabbiani e degli uccelli, sono molto acide, e quindi delle volte rimuovono anche la vernice, come capita anche sulle auto. Spostiamo il vaso, che pesa una tonnellata, ecco qui, qui l'abbrasione non ha aiutato, e quindi il vaso ha rimosso la vernice, anzi penso che sia anche un po' di deposito del vaso, che si è depositato qui sulla superficie, quindi magari anche qui proveremo a lavarlo, sempre con il cleaner di repaint, e con qualche detergente più forte, per vedere la vernice come regge, e come si comporta sotto lo stress, sotto l'azione dei detergenti più forti. Rimettiamo il vaso, e andiamo a vedere infine la tavola di legno, che io l'ho usata come base, perché ormai è irrecuperabile diciamo, vedete c'è molta muffa anche qui, dovuta alle intemperie, e in particolare i commenti sembrano iniziare a sollevarsi, perché appunto è uno degli effetti collaterali, il legno, il commento si indebolisce, fa infiltrazione con l'acqua, e si inizia a sollevare qui la doga. Proveremo magari a fare un test di ripristino dei commenti, fatemi sapere se l'idea vi piace, e ci attiveremo per cercare di sistemarla. I tubolari sono qui, quelli non li ho mai trattati, o meglio, li ho ripristinati, abbiamo visto già diversi video, non li ho trattati con la cera, aspettavo il periodo estivo per vedere come si comportava con le alte temperature, e quindi diciamo che ho un po' di basi per sistemare le superfici, e quindi per testare prodotti per i tubolari. E quindi cari amici, per ora abbiamo concluso, sperando che il meteo migliori, anche se ci sono 28 gradi all'esterno, vi invito come sempre ad iscrivervi ai miei canali, per non perdervi nessun aggiornamento, fatemi sapere cosa ne pensate, e ci vediamo nei prossimi video, sempre sul mio canale.